Parafrasando il contesto elettorale, verrebbe da dire che Tiferno e Trestina vanno al ballottaggio. L'anticipo della terza giornata si chiude infatti sull'1-1 al termine di 97 minuti tiratissimi da derby vero, con il Tiferno che si vede raggiunto al novantesimo dopo aver gettato alle ortiche la possibilità di chiudere la partita. Eppure in avvio è il Trestina, schierato da Pierotti con un 4-3-3 con Mazzoni in porta, con Vito, Fumanti, Cenerini e Lorenzini in difesa, Barbarossa, Gori e Gramaccio in mediana con Kribeck si è indicato a farsi preferire, quando proprio indicato. Prima anticipa Guerri sul traversone di Fumanti senza trovare la porta, poi viene chiusa al momento della battuta a rete sull'imbucata di Barbarossa. Machi modifica il suo 4-3-3 iniziale in un 4-4-2 con Guerri fra i pali, Sensi, Murillo, Mariucci, Avellini nel reparto arretrato, Bruschi, Benedetti, Gorini e Ruggeri a centrocampo con Calderini e Bagnolo in avanti e il Tiferno trova il vantaggio al minuto 29 quando Benedetti vede e serve Calderini che scatta sul filo del fuorigioco e con un diagonale perfetto batte l'incolpevole Mazzoni. Il Trestina chiede un fuorigioco per l'assistente gentile, tutto regolare e Moretti con balli dall'1-0. Il Tiferno ha subito la palla per il 2-0 ma Sensi non trova la porta sull'angolo dalla destra. Il Trestina accusa il colpo e i padroni di casa hanno un'altra occasionissima prima dell'intervallo, quando Gramaccia si sostituisce a Mazzoni salvando così su Bagnolo, poi è fumante a dimolarsi sul doppio tentativo di Ruggeri prima e Gorini poi. Nell'intervallo Pierotti prova a riorganizzare i suoi ed è Kribek a suonare la sveglia con un sinistro a giro allontanato da Guerri al minuto 53. Occhio però ancora al Tiferno quando Gramaccia chiude su Bruschi e Gorini al rimorchio calcia incredibilmente alto. Pierotti pesca allora in panchina fuori Barbarossa e Gori dentro Xafa e della Spoletina. Gramaccia da play in mediana con convito Xafa da Mezzali. Machi risponde con Dorata a far coppia con Calderini in attacco al posto di Bagnolo e con Brunetti per Bruschi. Un derby che sia derby vuole anche un po' di animi accesi ed ecco che al settantesimo Calderini finisce a terra davanti alla panchina del Tiferno dopo un contatto con Cenerini. L'assistente De Santis richiama l'attenzione di Moretti, si accende una mischia, Benedetti finisce a terra, Tersini entra in campo dalla panchina e viene espulso, giallo anche per Mazzoni e Cenerini. Sulla susseguente punizione di Gorini, tacco di Calderini in area, Gramaccia porta via palla e il Tiferno chiede il penalti per un tocco con il braccio da parte del capitano del Trestina. Un minuto e Gorini ha sui piedi la palla del 2-0 ma trova Superman Mazzoni a dire no. Pierotti passa allora il 4-4-2 con gli ingressi di Mariucci e Morlandi per Lorenzini e Dicato. Ancora Tiferno però, ma uno straordinario, Mazzoni abbassa ancora una volta la saracinesca su Avellini. Il Trestina si getta in avanti alla disperata e all'ottantasettesimo Calderini corona una grande prestazione con questo recupero da difensore puro su Morlandi servito da Mariucci dopo un velo di esso sì. Al novantesimo Machi concede la standing ovation proprio a Calderini e la vittoria sembra ormai cosa fatta per il Tiferno. Invece sulla rimessa di Della Spoletina al minuto 90 e 30 secondi Morlandi incorna più in alto di tutti. Guerri smanaccia addosso a De Sussi che da metri zero firma l'1-1 che fa esplodere il pubblico di fede trestinese. Sette minuti di recupero durante i quali il Tiferno accenna una protesta quando il nuovo entrato Coulibaly si invola ma l'assistente De Santis alza la bandierina. Triplice fischio e urne chiuse con il Tiferno che mastica Amaro e il Trestina che si porta a casa un punto d'oro. Gualtiero Machi due punti buttati via. Questo è chiaro insomma però devo dire che al di là del rammarico le partite, certe partite vanno chiuse. Io lo sapevo che è difficile portare in porto un 1-0 quando tu fai gol così presto. Bisogna chiuderle, l'opportunità di chiuderla c'era la partita e non siamo stati bravi a fare questo. E poi ci sta anche che prendi gol su un'azione sporca, su una spizzata di testa, su una mischia in aria. Su queste categorie ce ne sono tante e questo può accadere anche se non dovrebbe accadere. Un calderino su tutti oggi possiamo dirlo, recupero all'ottantasettesimo straordinario su Morlandi da difensore aggiunto oltre al gol altri giocati. Beh Elio cosa c'è da aggiungere? Ha fatto gol, si è sacrificato, ha preso mille punizioni. Insomma, però ci vuole anche altro, non da parte sua, ma ci vuole anche altro perché bisogna salire. Bisogna salire su certi momenti a livello di attenzione, a livello di consapevolezza. Bisogna acquisire ancora un altro tipo di mentalità che non ce l'abbiamo del tutto. Ce l'abbiamo a tratti durante la partita, stiamo bene in campo, però poi ci perdiamo sulle cose più importanti perché al centrocampo le partite si costruiscono ma dentro le aree di rigore si vincono e si perdono. Che voto dai al Totiferno? Tre punti dopo le prime tre? Sei meno meno. Bisogna cambiare passo. Roberto Bianchi, al di là del risultato, questo è un derby che ha onorato proprio la parola derby. Beh sì, intanto la vera vittoria è del calcio valtiberino. Vedere lo stadio, la tribuna piena, si parla che all'inizio del secondo tempo c'erano quasi 1200 persone. Sono venuti vecchi tifosi, addirittura i tifosi ultraottantenni, proprio quelli storici. Questa è la grande soddisfazione. Per quanto concerne la partita, una grande amarezza perché noi dovevamo chiudere il risultato già in due occasioni, credo Gorini e Avellini. La partita doveva essere chiusa prima, però purtroppo la fortuna non ci gira dalla nostra parte. Abbiamo fatto tre pareggi in campionato e devono essere moleste a parte e tre vittorie. Oggi abbiamo dimostrato un gioco fantastico, però il calcio è questo. Il Trestina riesce sempre a risolvere le sue partite dopo l'85esimo e bravo il Trestina per essere riuscito a pareggiare una partita che se usassimo il termine pugilistico ai punti l'avremmo vinta ampiamente noi. Michele Bianchi, tiferno raggiunto al novantesimo, questo è un pari che sa di beffa. Beh sì, beffa è dir poco. Però sono da un lato amareggiato, ma sono soprattutto orgoglioso di questa squadra. Tanti ragazzi, abbiamo un grande mister, una grande dirigenza, oggi lo stadio è pieno. Abbiamo riportato allo stadio oltre mille persone, questa è la cosa che ci deve rendere orgogliosi. E poi vedere oggi sei ragazzini titolari in una partita così delicata, mi rende veramente orgoglioso. Abbiamo messo sotto il Trestina, abbiamo dominato la partita, meritavamo di andare sul 2-0 già nel primo tempo. Purtroppo il calcio è bello per questo. È un punto beffa, però è un punto che prendiamo con grande orgoglio. Luca Pierotti, pareggiare una partita così cosa significa? Beh, significa tanto dal punto di vista del morale, del continuare a lavorare bene, con serenità, di credere in quello che si fa, ci dà un senso di fiducia, ci dà un senso di forza del gruppo. È quello che blatero dall'inizio, da quando sono arrivato, da quando li conoscevo meno. Adesso sono due mesi, li conosco bene. E questo spirito è il fulcro di questa squadra. Entra Morlandi sulla spizzata decisiva che porta al gol di Sossi. Ma sono contento di tutti, perché lo spirito deve essere questo. Io dico sempre, per me non esistono titolari, dico chi gioca prima e chi gioca dopo. Anzi, chi gioca dopo diventa fondamentale, perché gli ultimi minuti sono quelli decisivi. C'è da vincere, c'è da recuperare, c'è da tenere il risultato come domenica scorsa. Sono contento per Pietro, sono contento per Matteo della Spolizia, per tutti quelli che sono entrati, perché sono entrati con lo spirito giusto. E ho visto un senso di appartenenza da parte di tutti. Gli avevo chiesto tutto questo, oggi sono stati fuori dai ragazzi, la prossima magari staranno fuori altri. Però il clima, il senso di appartenenza, la forza di questo gruppo deve essere questa. Leonardo Bambini, è un pari che vale una vittoria? È un pari importante che dà seguito al risultato positivo di domenica. Credo che i risultati ci stavano, ti dico la verità, ci stava anche che vinceva Altiferno. Però bisogna dire che la cosa più bella è che oggi la Valtiberina ha riabbracciato le due squadre più importanti che hanno combattuto dal primo minuto al 97esimo, hanno lottato fino al 97esimo cercando di superarsi. E questo è il bello del calcio, la cosa più bella che vogliamo vedere dagli spalti. Poi un po' di pepe, qualche scaramuccia, è tutto normale in un derby perché un po' è sentito. Però devo fare i complimenti veramente soprattutto alla Tipenio, ma soprattutto al loro mister perché Maki credo che abbia dato veramente un'impronta a questa squadra. Ovviamente hanno degli ottimi giocatori, inutile nasconderli. Però si vede la mano del mister, quindi un'aggressività nei 97 minuti veramente... Pensavo che qualcuno non arrivasse alla fine. Poi noi abbiamo trovato dalla parte nostra un portiere eccezionale che ci ha tenuto in vita e l'ha ripagato alla fine su sì e anche chi è entrato con il pareggio. Perciò io sono molto soddisfatto della partita e della mia squadra perché sta crescendo. Ovviamente un derby è sempre preferibile giocarlo più avanti con le squadre più in condizioni. Noi in questo momento credo che ancora non siamo la squadra dell'anno scorso. Su alcuni giocatori dobbiamo crescere e lavorando cresceremo, ma sono convinto che arriverà il vero Trestina.